Buongiorno a tutti, sono Federico Costa, direttore generale di Top Cruise, c'è una responsabilità di iniziare questa partnership tra Top Cruise e il gruppo Royal Cariglia, per noi dopo 8 anni di cruise operating, quindi di appassionati di crociere, perché noi siamo nati nel 2003 in un mercato quasi duopolistico, con due mostri sacri, e mettersi a fare crociere non era una cosa particolarmente facile, soprattutto andare a spiegare al mercato, un mercato in un buro di Repigro, ma comunque un mercato abituato a un'offerta facile, c'è un'offerta immediata dei due mostri sacri italiani, per virgolette, andare a proporre altri prodotti crocielistici da proporre alla propria clientela non è stato, diciamo, molto facile. La crescita c'è stata, è stata una crescita importante, e l'accordo 2012 con Royal Caribbean per noi, diciamo, è un punto di partenza e un punto d'arrivo. È un punto di partenza perché la notizia è che il mercato crocielistic italiano non è un buopone. Il Royal Caribbean è arrivato anni fa sul mercato, ha fatto insieme anche, come abbiamo fatto noi, magari fatica all'inizio a entrare, a penetrare, a convincere sia gli agenti di viaggio, direttamente, che il cliente finale, a convincerlo che esiste, questo è un mio personale motto, esiste una crociera che incontra i piaceri di ciascun potenziale cliente. Vedo, appunto, tra di voi anche agenti di viaggio, e mi insegnate che ogni cliente ha le sue esigenze, ogni cliente ha le sue particolarità. Il prodotto crociere è stato un prodotto che fino a qualche anno fa era molto standardizzato, come il mio vela. Invece abbiamo nel mondo, e Royal evidentemente è il corosso mondiale delle crociere, abbiamo una moltiplicità, una differenziazione di prodotto, prodotto sia in termini itinerari, come diceva Giuseppe, sia in termini proprio di struttura. Una curiosità è che, lontano da un'ipotesi di accordo, anni fa, quando c'era la ricostruzione, la Sostis, nel cantiero in Germania, mi avevano portato a vedere, era ancora a secco, c'era solo lo scato, dicendo questa diventerà una delle navi più belle al mondo. Questa era cinque anni fa, forse quattro anni fa, e dicevo, come si chiama Sostis? Ecco, è curioso trovarsi il 7 di ottobre a singolare una partnership con Royal Caribbean, quindi con Celebrity Cruises, e andare a fare un po' di ambasciatori di questo premium brand sul mercato italiano. Un mercato italiano che noi riteniamo essere pronto a una diversificazione, essere pronto a saper riconoscere le necessità del cliente, chi ho di fronte, ho di fronte una famiglia, ho di fronte una coppia, ho di fronte una coppia di terza età o un viaggio di nozze, ho di fronte a un cliente che pesa più l'itinerario o pesa più i servizi di bordo. In aggiunta a tutto questo, le navi Celebrity vanno a essere una sintesi, una sintesi importante di tutto, cioè quindi da l'itinerario al prodotto, alla cucina, al divertimento, al relax. È chiaro che il nostro compito, quindi la nostra responsabilità molto importante, è andare a passare questo messaggio al mercato agenziale e con un grande supporto da parte della compagnia che io ringrazio per sì per la scelta, ma soprattutto per il supporto. Cioè è due mesi, tre mesi che stiamo discutendo appunto questo accordo, siamo costruiti questo accordo e devo essere sincero che il supporto, l'aiuto, la collaborazione che abbiamo avuto a 360 gradi da ogni dipartimento di Royal Caribbean è stato importante, ci ha facilitato il lavoro, ci ha facilitato la formazione e quindi questo ci responsabilizza ancora di più. In questo mercato crociere, che è un mercato obiettivamente, prima Gianni ho fatto vedere i numeri, ma è tutte le compagnie di crociere che faranno vedere i numeri, noi non siamo una compagnia amatrice, noi siamo un uso per etro. Noi cerchiamo di segmentare, selezionare, proporre e dare uno strumento alle agenti di viaggio per scegliere la procedura giusta per il cliente che ha di fronte. Poi sceglie a volte le compagnie che noi proponiamo, a volte altre compagnie è lo stesso. L'importante, la nostra missione dall'inizio, dalla fondazione 2Cruz, è far capire che esiste un portafoglio di prodotti sul mercato, un'offerta diversificata che può incontrare al 100% le necessità di ciascun cliente. Quindi cercare di togliere, diciamo, una pigrizia di offerta perché era facile studiare sempre alcune cose. Questo è un obiettivo che ci saranno posti. Questo mercato, che era praticamente un duopolio, si è aperto, si è aperto grazie appunto agli investimenti di compagnie come Royal Caribbean, grazie anche agli investimenti di malati di crociere come noi in questi anni che tutti i giorni servono in giro a raccontare questa nave è più così, questo cliente è tornato, si è trovato bene, ma sì la famiglia no, la famiglia la metto là. Quindi diciamo che si sta cercando di entrare in un mercato quantitativo, perché è un mercato quantitativo, è un mercato di grandi numeri, con della qualità. Quindi il premium branding celebrity è un prodotto sì quantitativo, nel senso che dobbiamo e saremo sicuramente numeri importanti, ma sicuramente ha una scelta quantitativa, cioè che per appassionati di crociere come noi è assolutamente importante. In tutto questo, dicevo prima del supporto avuto dal gruppo Royal Caribbean, la nostra società sta puntando, sta investendo molto da anni, avete visto anche le ultime dichiarazioni di Francesco Pallisi, sull'aspetto tecnologico, quindi è chiaro che noi dobbiamo rendere facile l'accesso al prodotto da parte del mercato agenziale, quindi non dobbiamo andare a creare dei problemi nella scelta delle crociere. Royal Caribbean sta investendo tantissimo in tecnologia, noi nel nostro piccolo, devo essere sincero, sul mercato italiano siamo leader, diciamo, dal punto di vista tecnologico nel mercato corcioristico, abbiamo trovato un dialogo assolutamente veloce e costruttivo, tanto che dalla settimana prossima avremo in linea sul sito B2B delle agenzie tutto il prodotto celebrity e chiaramente anche il prodotto Royal, quindi con, come dicevo Giuseppe, l'Oasis, la Lourdes e la Brilliance da Dubai. Quindi diciamo un'offerta, un portafoglio prodotto top-cluse che si va ad allargare e sicuramente andrà ad incontrare le voglie vacanze in crociera di tanti tanti crocioristi. Vi lascio la parola a Francesco.